Arriverà sul mercato a partire dal marzo del 2019 la nuova BMW Z4, su cui la casa tedesca punta molto per il mercato del futuro. Rispetto alla versione precedente abbiamo una notevole crescita per quanto riguarda le dimensioni, più lunga di 8,5 cm e più larga di 7,4 cm, il passo è più corto invece di 2,6 cm. Torna anche la capote in tela, disponibile o in nero in antracite che si apre e chiude in soli 10 secondi. Al momento del lancio sul mercato tre le versioni disponibili. La più potente è la M40i che con il suo 6 cilindri da 3 litri eroga 340 CV e 500 Nm di coppia con una capacità di raggiungere i 100 km orari in 4,6 secondi. 5,4 sono invece i secondi che la versione intermedia, la S-Drive 30i, ci mette per raggiungere i 100 km orari con una potenza da 258 CV e 400 Nm di coppia. Chiude l'allestimento la S-Drive 20i con i suoi 197 CV, 320 Nm di coppia ed accelerazione fino ai 100 km orari in 6,6 secondi. Prezzi a partire da 42.700 euro.